E' questo colpo di testa di Luca Sasanelli a salvare la Fidelis nel match casalingo contro la Palmese, terminato in parità. Alla fine la squadra di De Candia avrebbe anche potuto vincere il match, ma sarebbe sicuramente stata una punizione troppo grande per la squadra di Grimaldi, che disputa invece forse uno dei migliori match della sua stagione. Un 4-3-3 molto mobile, quello della Palmese, con ampie certezze nella spina dorsale, dunque Marco Puntoriere come boa centrale in avanti, Galdian nel cuore del centrocampo e Manzo Russo, il tandem centrale di difesa, esordio per il portiere 2005 Raffaelli, mentre spine nel fianco con E e Silvestro, cambia anche per De Candia che sceglie un 3-4-1-2 con Strambelli alle spalle di Scaringelli e Sasanelli, esordio dal primo minuto per Cancelli a centrocampo al fianco di Feola. L'inizio è però tutto di marca campana, con Puntoriere per Silvestro, tutto solo, e si fa deviare il tiro a botta sicura dall'intervento ottimo di Baglietti. Ancora Palmese, questa volta con Potenza, che recupera palla e calcia dai 20 metri, sfera di poco sul fondo. La prima azione costruita dalla Fidelis arriva all'alba del quarto d'ora con Sasanelli, che da posizione defilata costruisce un buon tiro, che resta però centrale per l'intervento di Raffaelli senza problemi. Al ventesimo però la Palmese passa in vantaggio, tiro dal limite di Conè, non perfetto nell'intervento Baglietti, che serve Silvestro, tutto solo bravo a segnare la sua quarta rete stagionale, il vantaggio ospite. La Fidelis non c'è e non reagisce, anzi la ripartenza della Palmese è velocissima, con Puntoriere a servire ancora in profondità per Conè centralmente. Tocco sul fondo, ma decisiva è la diagonale difensiva di Donida. E Feola dall'altro lato a sfiorare il pareggio prima della mezz'ora, con un colpo di testa completamente libero centralmente in aria dopo un calcio d'angolo battuto da Strambelli. Ancora Palmese con Galdian a sfiorare il raddoppio direttamente su calcio piazzato, la pressione degli ospiti resta molto alta e la Fidelis trova nel finale solo lo spunto di Dragà a sinistra, il cui tiro cross in area di rigore non trova l'intervento decisivo di Scaringella per un soffio. dagli spogliatoi stessi 22 in campo, ma Fidelis con un approccio diverso e più aggressivo. Salgono i giri del motore anche per Strambelli, che dopo 5 minuti si libera così di due avversari, anche se poi l'azione si perde. Al quarto d'ora Decandia però decide per un doppio cambio, sia di uomini che di modulo, e la mossa si rivela decisiva con l'inserimento di Cecere e Giambuzzi, il passaggio a un 4-2-3-1, dopo poco con l'ingresso anche di Russo. La pressione aumenta e la Palmese abbassa decisamente il proprio baricentro, così al 22esimo arriva il pareggio. Strambelli inventa a destra e Sasanelli capitalizza al meglio la sua prestazione non esaltante fino a quel momento, con un colpo di testa che rimette la sfida in parità. Settimo gol stagionale per l'attaccante Andriese, classe 2004, sempre più prolifico. La rete del pari è una scossa per la Fidelis che ci prova, e sfiori il raddoppio poco oltre la mezz'ora in almeno due importanti occasioni. La prima sugli sviluppi di un corner, con Sante Russo da anticipare tutti, e la palla che però termina sul fondo di poco, ma è clamorosa. L'azione è costruita al 36esimo, quando su calcio di punizione la palla viene svirgolata da Scaringella, ma diventa un assist comodo per Donida, che tira a botta sicura nel cuore dell'area di rigore. Ma non in quadro, lo specchio a Raffaelli, completamente battuto, e anche la parola fine praticamente sul match. Terzo 1-1 nella storia tra le due squadre ad Andria, nelle quattro sfide disputate sin qui, e girone di ritorno che si presenta decisamente più equilibrato, come da tradizione nel girone H. Il Tour de Force di questo inizio gennaio per la Fidelis continua mercoledì con la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Cavesa alle 15 allo Stadio degli Olivi, prima del ritorno in campionato, sempre tra le mura amiche, questa volta però nel match contro il Casarano.